Il giovane imprenditore novaresi Antonio Picciaccia, già confermato nel consiglio direttivo dell'API per il triennio 2011-2014, è stato dominato vicepresidente di Union Meccanica per le piccole e medie industrie di settore nelle province di Novara, Vercelli e VCO. Sì, è questo che mi rende abbastanza orgoglioso. Tutti gli anni che ho passato tra fare la gavetta e man mano crescere, oggi siamo una realtà su Novara che ormai da 23 anni, questo mi rende orgoglioso. Bisogna avere la testa alta, andare avanti, investire in maniera giusta, credere, inventarsi, perché oggi bisogna veramente inventarsi il lavoro, inventarsi nuovi prodotti, perché l'unica cosa che ci può veramente salvare dalla differenza degli atti è proprio l'inventiva, il saper fare cose che altri non sono capaci a fare, ma non solo quelli, fanno in maniera particolare, proprio mettendoci la voglia e lo spirito che bisogna andare avanti per tirare avanti le aziende. Malgrado la giovane età Antonio Picciaccia ha maturato una ventennale esperienza nella carpenteria, che guida insieme al padre Giuseppe, sfidando una crisi che dal 2008 li ha costretti a inventarsi nuovi prodotti che oggi rappresentano, un piccolo ma significativo esempio di successo per tutto il settore. Quando nell'inizio del 2009 abbiamo visto il crollo dell'edilizia, che è stato dal punto in bianco così, abbiamo dovuto inventarci, non è che abbiamo dovuto inventarci, abbiamo dovuto lanciare un prodotto che prima lanciavamo solo sul prodotto territoriale a livello nazionale, che noi siamo produttori di arredo elettorale, quindi anche facciamo tabellone elettorali, cabine elettorali, tutto ciò che serve all'amministrazione per quando ci sono le elezioni. Da vicepresidente di Union Meccanica, Picciaccia punta al rilancio del settore, passando da una prima fase di ascolto dei consociati. L'API spinge fortemente su questo discorso dei pagamenti, perché non si possono più avere dei pagamenti così lunghi sia dalla pubblica amministrazione che anche tra privati. Oltretutto dal marzo 2013 entra in vigore la normativa europea, quindi saremo obbligati a rispettare i pagamenti per legge, quindi 30 giorni tra pubblico e privato e tra privati i 60 giorni. Quindi non ci potrà essere più uno sforamento. Questo comporterà sicuramente dei disagi a molte aziende, perché come aziende che non hanno abbastanza liquidità per acquisire materiale, trasformarlo, ci va più tempo e quindi non riescono a stare dentro nei tempi di pagamenti. Però sicuramente ci sarà un accorciamento nei pagamenti. Oggi è una cosa assurda ricevere i pagamenti a 180-200 giorni. L'obiettivo numero uno è rilanciare l'azienda sul territorio, valorizzare l'azienda sul territorio, ascoltare tutti i miei colleghi e comunque portare, far sentire la nostra voce, che siamo in tanti. Comunque il settore metameccanico oggi su Novara sono più di 200 aziende, Novara, Viceo e Vercelli. Grazie. 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 Grazie.